oggi parliamo dell'accordo di sesta napoletana continuando il nostro percorso sull'armonia che abbiamo iniziato in questa playlist che se ti sei perso vai a riprescare perché i video che stiamo pubblicando sono decisamente interessanti stiamo cercando di ricostruire un percorso su l'armonia in modo da renderla il più pratica possibile in questo caso vedremo la costruzione teorica della sesta napoletana e poi verso la fine del video ci sposteremo sulla pratica di questo accordo vedremo come un accordo di così difficile costruzione sia in realtà di una banalità pratica a dir poco sconcertante andiamo a vedere innanzitutto su quale tonalità noi costruiamo questo accordo la tonalità deve essere minore assolutamente perché l'accordo da un punto di vista risolutivo non funziona nel modo maggiore non viene quasi mai utilizzato nel modo maggiore ci sono degli esempi in letteratura ma non è particolarmente efficace se non viene usato davvero davvero ad arte quindi in modo minore noi qui abbiamo scritto su sul nostro mio score un mi bemolle maggiore che ovviamente interpreteremo come un'armatura di chiave di do minore il secondo passo da fare per costruire una sesta napoletana è quello di considerare il secondo grado di quella tonalità siamo in do minore quindi ovviamente il secondo grado sarà necessariamente un re dopodiché si abbassa questo secondo grado quindi il secondo grado era re lo abbassiamo un semitono e andiamo a costruire quarto punto su quel grado abbassato una triade maggiore in primo rivolto che cosa vuol dire che dobbiamo intanto disporre il fa e il la che sarà bemolle perché l'armatura di chiave ce lo rende bemolle quindi darà luogo al nostro accordo di re bemolle maggiore ascoltiamolo si tratta di un accordo evidentemente maggiore dopodiché dobbiamo fare che cosa rivoltare l'accordo e disporlo in primo rivolto fatta questa operazione il nostro accordo da un punto di vista teorico è pronto come lo chiamiamo lo chiamiamo n6 quindi lo chiamiamo con una lettera dell'alfabeto e non più con un numero romano scriviamolo anche qui sotto perché la cosa diventa assolutamente chiara in questo modo disponiamo il raddoppio al basso che dovrà essere uguale alla nota che troviamo al tenore che in questo caso è fa perché si tratta di un accordo in rivolto quindi noi sentiamo il fa al basso e deduciamo n6 sesta napoletana ma come facciamo ad analizzare un pezzo e a notarlo all'interno di un brano beh innanzitutto l'abbassamento del secondo grado della tonalità ci dovrebbe far insospettire così come un innalzamento del secondo grado per esempio in do minore ci dovrebbe far pensare a una tonicizzazione se non del sol maggiore almeno del sol minore sol maggiore no perché è una tonalità abbastanza lontana che difficilmente si raggiunge con una tonicizzazione mentre invece il sol minore è una questione perfettamente plausibile quindi andiamo a vedere il contesto che oltre all'abbassamento del secondo grado ci può aiutare a distinguere questo accordo il contesto solitamente questo si trova la sesta napoletana seguita da un accordo sulla tonica in quarta e sesta e poi in una battuta successiva per esempio una cadenza perfetta qui ovviamente i numeri romani del primo grado li sto scrivendo minuscoli perché ci troviamo come abbiamo detto nel modo minore nella risoluzione di questo accordo nell'andamento di questo accordo e in particolare poi nel brano dovremmo fare particolare attenzione al soprano perché è davvero lui che ci fa distinguere questo accordo perché a un certo punto noi presumibilmente troveremo una sensibile al soprano quindi una situazione di questo tipo in cui il secondo grado è stato abbassato e a questo abbassamento segue una sensibile con il b quadro comunque l'alterazione di cui la sensibile necessita in questo caso c'è il b quadro perché ci troviamo in do minore e quindi questo comportamento riflette naturalmente l'armonia che abbiamo visto prima quindi con un primo in quarta e sesta che quindi non avrà il do al basso perché così si tratterebbe fondamentale come abbiamo visto nei video precedenti ma avrà presumibilmente un sol seguito da un accordo di quinto grado in stato fondamentale quindi lo possiamo scrivere così possiamo anche legare le note sulla stessa altezza in questo modo l'andamento risulta più chiaro anche alla lettura dopodiché troviamo un accordo abbiamo detto di tonica in stato fondamentale quindi questo basso ritornerà al suo do questa successione armonica dove abbiamo un primo in quarta e sesta seguito da un primo e da un quinto perdonatemi che cadenza in modo perfetto questa è una cadenza perfetta l'abbiamo visto nei video precedenti in primo grado cadenza perfetta lo scriviamo nella speranza che si possa leggere anche dal video suona in questo modo con una forte spinta della sensibile verso la tonica questo tipo di accordo da un punto di vista pratico come abbiamo visto non è altro che un re bemolle maggiore in primo rivolto quindi un esercizio efficace sulle seste napoletane è quello di suonare i secondi gradi abbassati con un accordo maggiore in primo rivolto in tutte le tonalità quindi si prende do minore si suona il secondo grado che sarà appunto re bemolle maggiore in primo rivolto si prende re minore e si suonerà il secondo grado che mi bemolle maggiore in primo rivolto in questo modo ci si sta esercitando su tutti i vari casi in cui noi troviamo una sesta nepoletana all'interno di una composizione vorrei arricchire questo video terminare mostrandoti un esempio tratto dalla letteratura musicale un esempio che ti permetta di capire in maniera chiara e lampante l'accordo di sesta napoletana spero di riuscire a trovarlo immediatamente dal mio canale tra l'altro questo pezzo che adesso ti farò sentire è una lettura che un giorno mentre così mi trovavo in conservatorio avevo fatto del pezzo di beethoven il chiaro di luna no la sonata quasi una fantasia e non si tratta di una esecuzione ma di una lettura semplicemente avevo iniziato a leggere questo pezzo e come puoi vedere dal tuo schermo il pezzo inizia proprio con una sesta napoletana che tra l'altro beethoven posiziona nelle primissime battute questo ti fa capire che l'accordo non si trova non è detto che si debba trovare necessariamente in una formula cadenzale in una forma conclusiva di un brano il pezzo può procedere tranquillamente e essere partire essere introdotto da una sesta napoletana che in questo caso si trova come vedi si trova all'incirca qui noti molto facilmente un re be quadro che nella tonalità di do diesis minore corrisponde a un secondo grado abbassato sentiamo come suona questo sesta napoletana quello che ha fatto beethoven in seguito è esattamente l'esempio che abbiamo scritto poco fa una cadenza che dal quinto grado che ovviamente qui necessita di un si diesis perché ci troviamo nella tonalità di do diesis minore cadenza verso un primo grado poi in mezzo ci può essere qualsiasi cosa ma il senso è questo detto questo io spero che tu ti iscrivi al canale per non perderti le prossime novità del di questa serie della serie sull'armonia e noi ci vediamo nel prossimo video di martedì ciao